ciao e benvenuti un nuovo video allora oggi apriamo insieme la my beauty box di aprile 2024 che mi è appena appena arrivata quindi ci sono ancora le gocce di pioggia perché l'ho recuperata sotto la pioggia e a questo punto direi di aprirla insieme mentre la apro ed facciamo un recap veloce 15 euro e 90 a box in base agli abbonamenti ma la più conveniente 15 90 a mio avviso codice sconto per il 10 per cento di sconto sul primo acquisto sul primo abbonamento su prima box quello che volete adesso apriamo così qui al solito che però ci sono i spoiler quindi non andiamo a vederlo adesso e andiamo ad aprirla ok ci sono delle cose sigillate delle cose un odore di menta profumo di menta che viene fuori quindi cerchiamo di capire subito un po tutto allora io direi a questo punto di partire con questo che è sigillato e sigillato anche molto bene quindi credo che ci impiegherò più o meno dieci ore solamente per riuscire ad aprirlo ma mi sembra una cosa positiva ecco partire subito da questa è stata una brutta idea perché metto in pausa e vado a cercare le forbici ok sto ancora cercando di aprirlo di tutto comunque abbiamo un eudato la tua lette cocco monoi LA sunset sunset bello bello ed è in full size sicuramente è in vetro 100 ml quindi ottima la cosa che sia arrivato bello imballato estivo assolutamente estivo sa di cocco sa di fresco sa di mi piace un sacco va bene anche quando mai arriverà la primavera però super estivo mi piace un sacco e andiamo a vedere il prezzo ed è 22 euro buono molto 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 buono poi andiamo avanti avanti facciamo in questo modo ok allora gold collage night reneval serum siero rigeneratore per la pelle con collagen boost e per la notte ok che bella la confezione questo è ok collagen boost con bacu coil bacu coil estratto di faggio alternative e naturali al retinolo ok ecco la domanda che avrei da fare è va bene anche per l'estate o comunque con un retinolo vegetale e meglio in inverno io amo il retinolo non dice niente indagherò indagherò perché vorrei essere sicura visto che il periodo è un po sulle allora retinolo lo possiamo usare anche in estate ovviamente questo è la sera quindi sicuro questo è un retinolo vegetale quindi non vi saprei dire bene come si comporta ma prima di iniziare un prodotto che è fotosensibilizzante sulla pelle però è un bello bello magari lo possiamo ottenere per il periodo devo indagare comunque per adesso ci piace è un 30 ml quindi un full size ed ha un valore di 37 euro quindi ci piace anche questo poi io devo fare questo perché secondo me il profumo di menta viene da questo questo è il dental floss tp ed è se quello che c'è scritto è giusto dental floss è un filo interdentale esatto alla menta alla dentifricio è un 40 metri quindi è un full size immagino che 3 euro e 50 però l'odore di menta era proprio lui questo molto di mente mi piace andiamo avanti qui ci rimangono tre cose che penso che siano tre cose make up più o meno partiamo da questa allora woke up l'abbiamo già visto anche altra parte make up creamy eyeliner da un 48 grammi quindi un full size eyeliner cremoso resa intenso del colore elevata copertura eccellente adesione colore 057 acqua marina e noi andiamo a vederlo intanto che vado a vedere ed è 8 e 99 è proprio un colore acqua marina andiamo a vederlo non è proprio il mio colore proprio per niente però è molto bello è molto bello non è nel mio colore ma è molto bello restiamo sul make up e questo io mi sembrava di averlo visto per allora cargi grillo giallucca compatte shadow è un refill è un refill ma dico una cavolata ma non era un marchio per le unghie magari dico una cavolata allora questo è il colore 467 è un refill di un ombretto compatto che quindi va bene singolo oppure in nelle cialde quelle magnetiche noi andiamo a vederlo ok 467 dice proprio così è neutrissimo neutrissimo l'ho messo qui si vede qualcosa no perché è neutrissimo lo vado a mettere sopra il colore acqua marina e va bene come colore di base è un po' polveroso oddio vi dico il prezzo che è 6 euro ok da mettere una palette come colore di transizione o colore di base ci sta senza allergeni senza parabeni è di carpi ok va bene comunque lo proviamo e andiamo all'ultimo prodotto che è questo devo capirlo la box è vuota a questo punto allora puro bio panno konjac feic clut io devo capire che è cos'è e anche voi immagino allora pulisce fonda favorendo la rimozione dell'impurità cellule morte residui di make up e sfoglia delicatamente facilita la rimozione delle maschere pratico dato il corpedino prima dell'uso lasciare in acqua tiepida 3-5 minuti ah ecco allora intanto 10 euro e 90 poi andiamo a vedere il totale è un sembra sembra tipo le spugne konjac da provare da provare perché se è un panno in teoria ed è col cordino ottimo anche per rimuovere le maschere che io adoro per rimuovere le maschere perché mi sono molti comodi ok allora a questo punto facciamo un recapino veloce ma intanto vi dico che il totale della box sono circa 89 euro e ricordiamoci che la box ha un costo di un abbonamento di 15 euro e 90 mi sembra un ottimo prezzo e soprattutto per chi ama le box di make up oltre che di skin care e questa ha cose abbastanza universali quindi partiamo con il panno della konjac fake cute di puro bio poi abbiamo il ombretto il matita della wake up quello acqua marina restiamo sugli ombretti con il cargi ok abbiamo il dental floss che è il filo impanitale che comunque è sempre utile e tutti li usiamo ok poi abbiamo eccolo qua questo gold collagen di innate reneval serum aspettate che ve lo faccio vedere questo qui e per finire questo che è fantastico il profumo coccomanoi è fantastico è fantastico aspetto che arrivi l'estate per usare questo fantastico e niente a questo punto questa era tutta la box fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuta se vi interrogisce se preferite altri prodotti se questa box è un po' anche a tema make up vi posso ispirare io come sempre si può essere utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao